L'Unione dei Comuni Pestum Alto Cilento continua a crescere a testimonianza del buon lavoro che abbiamo svolto in questi anni e che stiamo continuando a svolgere, lo dice il Sindaco di Capaccio Pestum Franco Alfieri e Presidente dell'Unione Comuni Pestum Alto Cilento. È con soddisfazione infatti che registriamo l'ingresso del Comune di Giungano che porta a 11 il numero dei componenti dell'ente per una comunità che conta circa 60.000 abitanti. Con l'ingresso di Giungano, la sua area industriale votata principalmente dal settore agroalimentare, va a integrarsi con quelle dei comuni di Cicerale o Iastro Cilento, Capaccio Pestum e Agropoli, ingrandendo e arricchendo la zona produttiva dell'Unione che ho l'onore di presiedere, continua Alfieri. In questo modo, oltre a puntare sul turismo mosso dalle bellezze artistiche e paesaggistiche, dal mare incontaminato e dall'ennogastronomia, possiamo puntare anche sulla forza delle industrie e dell'artigianato. Siamo certi che il Comune di Giungano darà il suo importante contributo, lavorare insieme agli stessi obiettivi, unendo le forze in campo, aiuta a raggiungerli prima in meglio.